Buonasera, buonasera, benvenuto. Grazie, Gianni Simms dell'Ario Mare. Prego, si accomodi pure. Grazie. A cosa devo la sua visita? Guardi, vorremmo proporle di acquistare i diritti sulla sua ricetta super segreta della pasta col tonno. Bene, sono aperto a questa possibilità, mi faccio pure un'offerta, sì. Guardi, con il nostro team abbiamo pensato che una fornitura di 7 kg al mese per 10 anni potrebbe essere un ecopagamento. Non mi sembra sufficiente, sinceramente preferirei un compenso in denaro. Ma il tonno è denaro. Sì, capisco però. Va bene, va bene, un secondo. Faccio una chiamata. Ok, attendo. Pronto? Sì, ciao. Ascolta, sono qua dal cliente. Gli ho fatto la proposta ma dice che vuole un compenso in denaro. Sì, gli ho detto che il tonno è denaro ma... Sì, 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 sì. Va bene. Guardi, perché lei? Mezzo milione. Mi sembra una buona proposta. Mi faccia fare una telefonata, mi scusi. Certo. Sì, pronto Andrea? Cosa stai facendo? Sì, pronto. Sto lavorando, sto guardando gli animali, sei tutto a posto. Ah, ok, guarda, non frega niente a nessuno. Ascoltami qui. C'è qua un signore dell'Ario Mare che ci ha fatto una proposta per la ricetta da pasta col tonno. Ci propongono mezzo milione. Cosa ne pensi? Mezzo milione è troppo poco. Non esco neanche di caso. Meno, almeno un milione. Ma come ridere. Ok, ok. Sì, vabbè, stai calmo. Va bene. Riferisco, riferisco. Ciao. Il mio consulente finanziario ritiene che si è opportuno almeno raddoppiare la cifra. Quindi un milione di euro, minimo. In effetti la ricetta deve essere molto buona. Ovviamente. Accettiamo. Perfetto. Bene, allora... Le do il contratto. Sì, perfetto. Vediamo questo contratto. Se vuole fermare... Un contratto molto breve. Le do anche la penna. L'essenziale. Molto bene. Quello che serve. Allora vado, eh? Senza legge, facciamo così. Si, fidi. Vado, allora firmo, eh? Firmi. Venduta! Benissimo. Grazie mille, alla prossima. Grazie a lei. Eccoci, amici telespettatori. Bentornati alla prova del provo. Quest'oggi analizzeremo approfonditamente la ricetta della pasta col tonno. E per questo abbiamo una special guest. Venga pure Chef Tony! Non chiudete gli occhi e non girate la testa. Come potete vedere abbiamo qua un esemplare il miglior coltello che c'è al mondo. Black duro N2. Benvenuto Chef Tony nella trasmissione di oggi. Non vediamo l'ora di averla qui. Allora, oggi vedremo la ricetta della pasta col tonno. Ci elenchi gli ingredienti necessari. Allora, acqua, rubinetto, sale, pasta, tonno, rio mare all'olio di oliva. Solo quello, eh? Poi. Va, va. Molto bene, allora cominciamo ad eseguire la procedimentazione per spiegarvi dettagliatamente qual è il modo migliore per avere la pasta di tonno più buona del mondo, giusto? Sì, è quello che stiamo facendo. Vai! Allora, incominciamo subito. Come prima cosa metteremo l'acqua a bollire sul camino. Prendiamo la pentola. Pentola ovviamente in acciaio inox, perché sennò la pasta non viene così buona. Rimpiamo con l'acqua. Tre quarti della pentola. La atteggiamo sul fuoco. E pizziamo. Così, io. Ora metteremo il sale specificamente prelevato dalla Polonia per fare questa ricetta speciale. Si mette un po', no, lo buttiamo in mente così freestyle. Direi basta. Allora, sono io lo chef o sei te? Sì, va bene. Ora chiudiamo. E prepariamo tutti gli ingredienti. Quindi la pasta e il tonno. Allora, ok, cominciamo subito. Qua abbiamo la bellissima pasta offerta da... Vabbè, offerta. Per assicurarci che facciamo la dosatura adatta, abbiamo una bellissima bilancia fornita dal Mottolino by Park. Pesiamo. Cioè, quanta pasta sarebbe da due persone? Cioè, circa sui 200 quintali. Vabbè, affidiamo. Ovviamente il coltello è il migliore, M2, Enduro 2. E come potete vedere taglia, non taglia niente. Siamo arrivati al clou del video. L'ospite speciale. Il tonno rio mare all'olio di oliva. Mi raccomando, assicuratevi di comprare le scatole gran risparmio da 8 lattine. Minimo. Ora parliamo di dosaggi. Per 100 grammi di pasta è opportuno una lattina da 80 grammi. Oh, bolle! Per assicurarsi che l'acqua sia alla temperatura adeguata, deve raggiungere almeno 8000 gradi. In questo caso li abbiamo già raggiunti. Ora, butterò dentro la pasta. E' importante, quando si butta la pasta nella pentola, contare ogni maccherone che cade dentro la pentola. Perché, se non lo contate, cambia un cazzo. Ma prima di continuare, non vorreste comprare un bel coltello Emon Duro Enduro 2? Guardate che seghettatura per tagliare i cinghiali più duri al mondo. Però va anche bene per girare la pasta, come potete vedere. Chef, quanto è importante girare la pasta con il coltello? Gli dà quel pizzico in più del normale. E' buono. Ebbè, ovvio. Ah, è pronta la pasta. Andiamo a scolarla. Benissimo, la pasta ha cotto in circa 48 ore. Bella morbida. Ora inizieremo a scolarla. Mi servono delle patine se voglio ancora usarle male. Una sola è abbastanza. Useremo il coltello. User Brainy. Un caducro French. Ok, benissimo. Ora è opportuno aprire il tonno e metterlo nella pentola così si scalda un po' e esce una specialità. Come potete vedere, col coltello potete far tutto. Descolare la pasta, tagliare, tirar fuori il tonno. Con il coltello è tutto a fare. Ora è opportuno sminuzzare per bene il tonno nella pentola con, ovviamente, il coltello. Ora che il tonno è in temperatura, immettiamo la pasta nella pentola. Sempre con il nostro coltello E1-2-2, giriamo la pasta. E' pronta per essere degustata. Ora abbiamo rapito due stranei per fargli degustare la nostra pasta e avere un giudizio imparziale. Oh, dove siamo? Non lo so. Oh, pasta col tonno. Pasta col tonno. C'è che la assaggiamo? Una bocca, una coltetta. Si sente che la pasta è stata girata col coltello, eh? Mmm, lì è duro. Proprio buono. Troppo. Una tradibattetta. Speciali. Questa qua non mangi neanche nei migliori stranti Michelin. Secondo me l'ha fatto uno chefone di quelli bravi. Tipo uno come chef Tony. Sì, proprio lui pensavo. Benissimo, allora ringraziamo lo chef Tony che è stato qui con noi oggi a presentarci. La ricetta della pasta col tonno è un piacere mio. Ricordo sempre che in vendita il coltello Endur 2 ha un prezzo speciale scontato del 70%, quindi affrettatevi a comprarlo. Benissimo. Non vedo l'ora di comprare. www.cheftoni.it Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!